girano sempre i video di Led Zeppelin, Iron, SDC, di Purple eccetera ovvero musica di 30-40 anni fa ma basta diamo spazio alle nuove band italiane tipo Moda e Sonora svegliatevi, il mondo va avanti, ringhio vieni qua vieni qua vieni qua no, da solo è troppo poco uno, due, tre, quattro, ringhio, ma vaffanculo va Jack mi associo le nuove band ficcatele su per il culo quelle band lì, se per te è musica è meglio che ti fai una pulizia al cervello e al buco del culo magari avrà sofferto tantissimo a guardare il video precedente di fine anni 60 allora si vede che gli ha fatto male Rick Bardano probabilmente qualcuno che gli somiglia gli ha fatto male magari per quello che lo chiamano ringhio ciao Pino mi piacerebbe sapere tu cosa ne pensi di Saviano mi piacerebbe mi piacerebbe mi piacerebbe